Dopo lo stop dell'anno scorso dettato dall'emergenza Covid, stavolta il 4 luglio la fiera di Sant'Antonino tornerà. Manca infatti poco più di un mese alla festa patronale della nostra città e quest'anno, salvo sorprese, il tradizionale appuntamento in centro storico si svolgerà. In questi giorni gli uffici comunali e i rappresentanti degli ambulanti sono al lavoro proprio per consentirne l'organizzazione, ovviamente in forma ridotta rispetto al passato, con aree transennate, contingentamento, personale di sicurezza e tutto ciò che la pandemia ha ormai imposto alla quotidianità. Adriano Anselmi, presidente provinciale di FIVA, la federazione italiana dei venditori ambulanti, conferma che la fiera di Sant'Antonino si terrà. Normalmente, aggiunge Anselmi, gli stand sono circa 320, quest'anno però i venditori presenti potrebbero essere meno a fronte della necessità di garantire il distanziamento sociale. Se questa eventualità sarà confermata, conclude il presidente di FIVA, la riduzione dei banchi verrà decisa in base a un criterio di anzianità delle licenze sulla fiera.